Sei riprese dalle prime di ciascun arbitra Giovanni Pocci e andiamo a presentare l'angolo blu da Firenze delle team Cavallaro Ventura accompagnato l'angolo dal maestro Ivano Biaci classe 87 si presenta con un record da professionista di tu il vittore e una sconfitta su tre incontri disputati un applauso per Stefano Napolitano è ora da Alessandria del servo del team Cavallaro Ventura accompagnato all'angolo dal maestro Adriano Gadoni classe 92 si presenta con un record da professionista di quattro vittorie due pareggi, due sconfitte su otto meccie disputati facciamo un applauso per Luciano Rattazzo Grazie! 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 è la prima ripresa No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.